Avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto, nonché assessore del comune di Taranto alla cultura e alla pubblica istruzione. Una tematica davvero toccante, quella dello stress, della gestione dello stress, una emergenza sociale. Ecco, parliamo di questa problematica sia dal punto di vista proprio amministrativo come supporto che il suo ruolo istituzionale ha voluto dare, ma anche proprio come esperta del settore, perché poi certe problematiche hanno ovviamente dei risvolti e dei costi sociali. Sì, al di là di quello che è un convegno dal taglio prettamente medico, perché oggi i insegni e i professori parleranno dello stress da un punto di vista medico, di come il nostro fisico reagisce con la malattia allo stress. Guardate, lo stress è studiato anche da chi come me si occupa, ad esempio, dei conflitti, perché la gestione dello stress porta delle problematiche a livello familiare, a livello sociale, importanti, con una ricaduta di costi notevoli nella collettività. Ti faccio un esempio, Luigi, il burnout, cioè lo stress da lavoro all'interno dell'ambiente di lavoro, è un problema che è una prima delle cause di maggiori spese per le comunità, perché per risolvere poi le problematiche derivate dalla cattiva gestione dello stress, le società, le istituzioni devono poi spendere molti soldi per cercare di riparare questi danni. Non solo, pensate alla non gestione dello stress nei conflitti personali e intrafamiliari, soprattutto all'interno di una famiglia, dove la non gestione di uno stress comporta non comunicare e quindi comporta poi ad impelogarsi in separazioni o divorzi cruenti, proprio per una cattiva gestione della comunicazione. Poi c'è anche una situazione di gestione dello stress e di stress sul posto di lavoro. L'ho detto, si chiama burnout, la sindrome dello stress nel posto di lavoro, che è proprio una causa studiata, addirittura a livello europeo, perché come ho detto prima è la prima causa di morte anche, e gli stati, le colore di vita, sono chiamati a spendere molti soldi proprio per evitare queste problematiche al lavoratore soggetto a questa sindrome.